Sono curioso, sono molto curioso di capire che cosa accade, accade fra un po'. Lo studio lo vedo intanto come una specie di memoria esterna, è un'estensione di quello che poi è la mia memoria, nel senso dove effettivamente tutti i pensieri, tutte le idee, tutto ciò che penso spesso le rendo fisiche, le costruisco, ed è anche un posto dove riesco ad essere libero, molto molto libero. È il luogo dove metto in pratica i miei pensieri, dove do forma ai pensieri, dove trascorro la maggior parte del tempo, dove ho la possibilità di fare delle riflessioni su quello che è il mio rapporto con lo spazio. Credo che abbia anche a che fare con un atteggiamento molto ludico e soprattutto di curiosità nel giocare con elementi materici, di sfidare l'argento, di capire a che temperatura fonde. Sono sempre stato affascinato dal periodo alchemico, dagli alchemisti, quindi mi diverte anche un po' quest'idea di manipolare. Tant'è, sono tutte analisi che faccio nel mio studio, per me, perché mi diverte molto, quasi un po' una specie di archimede, così. Poi cerco di restituirle sotto altre forme, col collage, con l'installazione, con la colonna cromata, facendo riferimento magari alla storia di Roma, oppure come l'installazione al macro, dove all'interno di tutto il lavoro pittorico ho fatto alla mostra al macro, come se non la fosse, all'interno del muro ho infilato delle superfici in accello specchiante. Anche qui è molto interessante, secondo me, simulare la pittura senza fare la pittura. Ed è un po' tutto quello che appartiene al mio mondo, cioè manipolare sistematicamente sia la prospettiva, sia l'immagine, sia il colore. È un po' quello che accade, mi accade nella realtà quotidiana, nel senso che non credo che tutto quello che ci accade, tutto quello che ci viene raccontato, non abbia un filtro, no? Allora è molto divertente poter simulare quello che mi accade. Comunque è tutta una grande messa in scena, tutta una grande costruzione, no? Come dicevo all'inizio, venendo dalla scenografia, avere un punto di vista fermo, no? Perché nel vecchio teatro elisabettiano, quando si progettava un teatro di prosa, si partiva da un punto fisso, che era il punto di vista del principe. E questo punto di vista fisso del principe mi fa sentire privilegiato, nel senso che mi fa sentire avere un punto di vista mio, personale, fermo su quello che è uno spazio che può essere fisico, bidimensionale. Diciamo che questa è la base di tutto quanto la mia ricerca, di tutto quanto il mio processo creativo. Cioè avere... tutti i miei progetti non sono chiusi, sono tutti progetti molto aperti, però che hanno come filo conduttore il punto di vista, dal lavoro fotografico, al lavoro installativo, al lavoro ultimo, che sto sviluppando da qualche anno, che è quello di lavorare su queste messe in scena bidimensionali su tela, e di volta in volta usando come medium il materiale che mi serve. Il primo progetto è una delle installazioni, quindi mi sono avvalso l'autodizio della terra, del legno, eccetera, eccetera. Poi c'è stata la fase fotografica, non mi sento un fotografo, però ho utilizzato la foto perché in quel contesto, in quel progetto, mi restituiva la mia idea e credo che sia anche un po' il lavoro più connotato degli ultimi anni che ho fatto, mi ha fatto sviluppare un processo di indagine o spazio in una determinata maniera, tant'è che anche il lavoro appunto della farnesina proviene da quel periodo, diciamo, di ricerca e di lavoro. E poi il lavoro ultimo che sto sviluppando, che nasce dalla mostra al macro, è come se nulla fosse, dove sto utilizzando della pittura e non sono un pittore. Questa è un'altra cosa che mi crea parecchio fascino. Cioè mi fa anche sentire libero di poter indagare materie, come dicevo all'inizio, di stare nel mio piccolo laboratorio, nel mio piccolo mondo e poter continuare a giocare con dei materiali, con delle materie che poi restituiscano l'idea del lavoro, di quello che sto cercando di realizzare. L'opera della farnesina appartiene a un progetto molto interessante, secondo il punto di vista, iniziato nel 2005 e portato avanti fino al 2009, ed era l'indagine di fotografare i musei vuoti. Cioè nel senso che era un lavoro dove anziché fotografare, anziché presentare qualcosa in museo, cercavo di presentare il museo completamente vuoto. Cioè togliergli effettivamente gli elementi che poi caratterizzano l'esistenza di un museo. Questo è un po' in sintesi quello che ho fatto. Ho fatto una serie di scatti dove focalizzavo l'attenzione sull'utilità, sulla funzionalità del museo. Sono molto legato a quel lavoro perché il primo lavoro dove faccio un intervento all'interno della foto con un testo, che sarebbe un testo di un filosofo, di un provocatore, artista, diciamo così, un po' di nicchia polacco, dove con i suoi interventi decontestualizzava l'arte contemporanea. E effettivamente la scritta che è all'interno della foto ironizza il senso dell'arte contemporanea nella società. Sono contento che la Farnesina abbia in collezione il mio lavoro perché ha anche una possibilità per veicolare il lavoro non soltanto mio ma di altri colleghi, di altri artisti che stanno in collezione. Poi penso che possa essere un'ottima possibilità di veicolare l'arte contemporanea e non solo quella recente ma anche quella degli anni Ottanta all'estero. Trovo molto interessante questa collezione. Grazie per la visione!